Evviva! Funziona! Prossima mossa, Einstein! Prossima mossa, Einstein! Ehi! Benvenuti alla... ...Il c... ...Stay... ...I cercatore... ...Ric... Ecco arrivare Potter! Un luccichio dorato, è il boccino? Potter ha visto il boccino? Sì! Potter si prepara per la mossa finale Trovigliante! Harry Potter si avvicina al boccino! Fantastico! Il volo del spiora Potter! Arriva il cercatore di carbonero! Non ho mai visto nessuno volare così! Potter avanza! Non ho mai visto nessuno volare così! Potter sta perdendo il controllo! Potter si porta in vantaggio! Non è più in grado di resistere! Ci è mancato Potter! Potter spreccia velocissimo! Un colpo che lascia il segno! Stravigliante! Evita un volide arrivato a tutta velocità! Ecco arrivare un volide! Si sta avvicinando! Secondo Russell, oss flatte un volide danno! Soluna si Mia Il No! 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 No, no! 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 Otter torna a salire